In occasione di Pesach faremo le pizzarelle con il miele in due varianti di cottura, fritte e al forno. Come ingredienti abbiamo bisogno di 6 azime francesi all'acqua, 2 uova intere, 8 cucchiai di cacao amaro in polvere, 10 cucchiai di zucchero, pinoli a piacere, un pizzico di sale e miele. Bagnate le 6 azime e lasciatele riposare qualche ora o tutta la notte con il sostegno di un peso sopra. Strizzate bene le azime, aggiungete le uova, un pizzico di sale e lo zucchero che si può aumentare o diminuire a gusto proprio. Aggiungere il cacao amaro, i pinoli e lasciare riposare l'impasto in frigo per circa mezz'ora. Per la cottura classica in padella bisogna scaldare dell'olio di semi e con l'aiuto di 2 cucchiai bagnati fare le forme tipiche. Friggete circa 2-3 minuti per lato fino a doratura. Per la cottura al forno invece basterà mettere l'impasto in una teglia e infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. E ultimata la cottura potete cospargere di miele a volontà.